Musica 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 Sei ancora iniziale a Zimbar Erde. Si sta chiedendo a parlare di Santa Lucia. Lei ha dei buoni bambini, un'aspetto più di tradizione e secondo l'uomo di Palonte, Pitten Caret. Il giorno, nel 12 del Dio del Dio, in la Biblioteca di Luzerno, sono state grandi Kinder, dove hanno fatto le marini alle insieme. In questo momento, si spiega e si trova, dove hanno una famiglia dove hanno fatto vivere in Luzerno. Sono state di Santa Lucia, ho fatto un'anno, ho fatto un'anno, ho fatto un'anno, dove hanno fatto una famiglia dove hanno fatto vivere in Luzerno. Poi, coming to me riposate, i due non metti un'anno, ho conocuto le bambini, dove hanno fatto un'anno, in Monsignissia. Abbiamo auch un'anno, dove hanno fatto un'anno, dove hanno fatto un'anno. E' stato un'anno, dove hanno fatto. Mi sono stato seguito, dove hanno chienci come gli bambini. Si si stano, si si trova bene. In questo momento, Ora si parla, dove si i buoni, in Kulturoinstitut, in Kulturovereini, in Documentation Centrum, in Camovo Luzerno e in Tual Camovo in Hoa Ebene, dove ci sono aiuto e ho scelto e ho scelto un progetto che avevano un progetto che avevano un progetto che avevano un progetto che avevano un progetto di Luzerno e un progetto. Grazie a tutti, grazie a tutti. La gloria di Lucia in Tavohaut è una tradizione che si chiama in denaro dove si chiama il 12 e 13 di Dezember, si chiama la gloria di Lucia, dove si chiama la gloria di Lucia, dove si chiama i bambini, dove si chiama i bambini, dove si chiama il piatto e dove si chiama i bambini, dove si chiama i bambini. In Luzerno, in parte di Giardano, i bambini, dove si chiama il bambino e i bambini, dove si chiama i bambini, dove si chiama i bambini. Luzerno, in parte di Giardano, i bambini, dove si chiama i bambini. Grazie a tutti. La storia Quitta, la gloria di Lucia è nascita in particolare 211 nell'arca di Syracuse in Sicilia in una famiglia cattolica. famiglia. Sie hat vorlort zoi vater, wenn er is gebes giun, und hat herta gelebet bis zoi na muotar, voda hat gehoas e utikia. Zoi muotar is herta gebes kronk, und allora, an tage, da heile Luzia hat desider zogijana a Catania, a zgrapp vodach heile Agata, sopetta vor zoi mamma und sovorsa a grossa hilfe. Un, da se nacht, di Luzia is gont schlava, un hat entruamt di heile geagata, voda hat köhte. Luzia, du pisch guat duo as pei, som ach gesund doi muotar, un brom duo pischt heile. In tage dar no, zoi muotar is bidar ken gesund, getonditza, da heilege Luzia is bidar gont a Shirakusa, un sem hat ze geschenk als, bas es hat gehatt, in armel halt. Zoi ha gelatt zoi puhalo, un is nogon dar kattolische religion. In da selzeit, in gonts reich wo roma, alle di leit, boda sangebes kattolisch, zön keintaus gemacht. Zoi puhal, boda es gich keng gelatt, un hat dar gebölk machan zahlen, is gont kans soldan wo roma, so machanen bissan ke, da heilege Luzia is keng kattolische. Vorditsa is da gonts rechte, un di giudice, ha makoet ki, odar si bera ze ausgezoget, vodar kattolische religion, odar si bera kent ausgemacht. Da heilege Luzia is keng getoetet, kavarant ar di oan, un vorn prennata sen vajor, azz dreizane wun krishmonat wun jar 300 unviere. A nagefamilja is su arkenzoleba azz Luzern, ma rongherede pittiziano ruffa, darmon vodis arfamilja, azz moket soboruata di hausla wo kunt, vorim progetto Sleddog. Disa progetto, boda Bart Hochevan in Khochnar, Genaro, Spottasio a Kunzimzane, au in Millegruam, parchemenge mart pitt Fims, boda ist arkent in gonts Belesland pitt soinar schuval wo kunt. Disa schuval lirt habe soviuara umma pitt slitten gezoaget wo kunt di lalt. Mi chiamo Tiziano Ruffa, vengo dal Moncenesio dove avevo l'attività con i cani da slitta e mi sono trasferito qui perché ho avuto un'opportunità da parte della Federazione di installare la mia attività qui a Millegrobe. La Federazione ha un interesse abbastanza grande perché organizzerà l'anno prossimo e i prossimi anni i campionati europei, i campionati mondiali di media e di lunga distanza. Le gare saranno organizzate dal club Trentino Alto Adige di Sleddog e noi faremo dei coordinatori, faremo i preparatori delle piste e della sistemazione per i conducenti, per i musher. Nel nostro allevamento abbiamo 56 cani, quasi tutti Alaskan Husky, una razza un po' particolare, poco conosciuta però molto utilizzata nella competizione e nel tiro delle slitte. Sono dei cani molto docili, molto affettuosi, molto facili da gestire perché sono cani che sono abituati a vivere in branco. Oltre all'attività delle gare mi occupo dell'insegnamento ai privati della guida delle slitte. La fascia d'età che può praticare questa attività è dai 6 fino ai 70 anni. Lavoro con i bambini, lavoro con gli adulti, lavoro anche con le persone che hanno dei problemi fisici, anche mentali. Normalmente l'uscita con i cani viene sempre accompagnata da me o da un mio collaboratore. Non si esce mai soli perché il problema è che il cane non conosce il conduttore e normalmente non risponde ai suoi comandi ma risponde ai nostri ordini. L'area che stiamo costruendo è composta da quattro batterie principali. Abbiamo la struttura di base, sono queste due strutture che hanno anche una zona notte. sono fatte proprio in legno per essere più calde e essere più gestibili per i cani anziani. Mentre la nuova struttura sarà costruita dietro con dei elementi prefabbricati, degli elementi adatti alla tenuta dei cani durante la notte e durante i periodi freddi. Per il momento per metterci lo spostamento dei cani dal Moncenisio a Millegrobe abbiamo 18 cani che sono stati portati solo domenica scorsa per poter liberare i box dall'altra costruzione e saranno portati in tre tappe. Ci siamo trasferiti, per il momento solo io e i bambini, a Luserna. Abbiamo preso la residenza perché la nostra intenzione è quella di rimanere stabili. Mentre Roberta si trova ancora al Moncenisio per accudire i cani che sono ancora nei box di Moncenisio. Dovremmo riuscire a fare tutto il trasferimento entro l'inizio delle precipitazioni nevose. L'attività sarà sicuramente pronta per il periodo natalizio. Vi aspettiamo numerosi a provare questa attività che porterà sicuramente qualche cosa di nuovo nella regione. L'attività di Giardà, dove erano i bambini, per i bambini, dal Klubman e l'ustre getritto che sono in Laiut, dal 22 di Cristo, a Dezember, di Zene Morgas, alle persone hanno studiato sui singoli e sui toni, che si tratta di un'azienda. All'attività in un'altra scala del Kulturistituto Luserna. L'attività di Luserna e di Luserna, vuol dire che è molto stolz in cui l'attività si tratta di Angelica de Cicchi, di torta di Teresa di Rida Galeno e di Elena Nicolucci Golo, di torta di Sergio e di Nadia. D'Angelica ha studiato come Kronksbistach e di Elena ha studiato molte persone. Questo libro è tutto in gruas di Matteo von Castellet.